Terza finale consecutiva in Coppa Italia per l'ITAS-Diatek, sedicesima finale di sempre. Il pass per l'ennesima sfida decisiva, gli uomini di Stoicev se lo sono conquistati sconfiggendo con un netto 3-0 la Sisley Belluno. Le preoccupazioni della vigilia riguardavano soprattutto la forma ancora ballerina del centralone azzurro Birarelli. Stoicev ha schierato al suo posto il trentino Burgstahler, accanto a un ritrovato Giuric ripresosi dall'infortunio alla caviglia. Per il resto la formazione era quella tipo, con Raffaella alla regia, Quantoriene e Casischi laterali, Stocker opposto e Bari libero. Tre parziali pressoché identici, quelli che si susseguono al pala lottomatica di Roma, la Sisley che spinge nella prima parte guadagnando punti, e l'ITAS che torna sotto allungandone il finale. Eloquenti i risultati dei set vinti da Trento al 19, al 18 e al 17. Arma in più dei trentini, sicuramente il servizio, specie quello del martello italo-cubano Quantorena. Nessun festeggiamento per i campioni d'Italia che tra qualche ora, alle 17.30, dovranno giocarsi la gara decisiva. La finale, con Macerata, che ha sconfitto Modena per 3-1, sancirà la vincitrice della Coppa Italia. Gara quella con i marchigiani che oltretutto anticipa il doppio match di Champions che si disputerà nelle prossime settimane.